buongiorno a tutti buon fine dicembre facciamo subito questa doverosa premessa sono stra influenzata quindi sentirete la voce molto nasale sentirete una gola un po irritata probabilmente tossirò cercherò di togliere i colpi di tosse dall'audio promesso però ecco diciamo che non mi sentite particolarmente in forma in questo fine 2019 però ci tenevo a darvi qualche ultimo aggiornamento di fine anno appunto e raccontarvi qualcosa di quello che sarà il 2019 in più risponderò ad un paio di domande che mi sono state fatte via messaggio ma lo farò qui perché credo che queste domande mi verranno riproposte più avanti quindi almeno le risposte rimangono già tutte qua in questo contenitore di audiolog partiamo subito da un piccolo cambiamento ascoltabile nel canale di spreaker ossia ho incluso una monetizzazione parziale inserendo dei brevissimi spot in alcuni show e soltanto alla fine dello show questo perché come qualcuno di voi sai qualcun altro invece no l'abbonamento su speaker è a pagamento e avendo io un abbonamento intermedio quindi non uno starter e nemmeno un avanzato professionale comunque al suo piccolo costo annuale e quantomeno cercherò di ripagarlo attraverso gli ascolti di spreaker gli spot non ci saranno in tutti i contenuti a bassa voce in tutte le letture sussurrate nel mago di oz nel regno di oz questo perché i volumi delle pubblicità purtroppo non sono regolabili direttamente da me sono molto alti e non voglio che diano fastidio di base non mi piace premettiamo non mi piace l'idea di monetizzare però sinceramente non sono molto brava a gestire i social quindi l'idea di aprirmi un patreon piuttosto che di chiedere continuamente sostegno donazioni non fa per me quindi ho preferito una via abbastanza politica qualche spot breve qua e là non in tutti gli show non in tutti gli episodi giusto per cercare di riportare a budget l'abbonamento su spreaker quindi spero che non vi dia fastidio se ritenete che qualche spot sia esageratamente fastidioso o se avete delle idee migliori per poter sostenere il canale suggeritemene ecco e quindi come sarà la programmazione del 2019 io contavo di riuscire a finire peter pan entro la fine dell'anno ma non non credo di riuscire a farcela perché onestamente già sto facendo fatica a fare questo audiolog che durerà pochi minuti quindi spero di farcela ma non garantisco come già avevo accennato qualche tempo fa zanna bianca tornerà sul canale con il nuovo microfono quindi con un audio assolutamente migliorato e sarà diviso solamente in tre parti e non in tutti i capitoli arriverà all'isola del dottor moro e questa cercherò di caricarla in un unico show su youtube quindi in un unico video su youtube e ovviamente per quel che concerne speaker sarà comunque divisa in parti perché voglio vedere se facendo meno uscite i contenuti sono più graditi sono più fruibili perché oggettivamente in molti casi i capitoli sono molto corti e quando io magari faccio passare due tre giorni tra un'uscita e l'altra si perde un po il filo e questo è vero quindi faremo questo esperimento mi saprete dire se questa cosa vi piacerà oppure no ci saranno ancora collaborazioni collaborazioni con canali singoli o multi collaborazioni delle quali farò parte anche io e vi lascerò il link nell'info box di questo episodio al gruppo di facebook del quale ho già parlato in altri log ma lo ripeto volentieri al gruppo di facebook voci e penne youtubers voce e penna youtubers nel quale trovate un sacco di voci narranti un sacco di scrittori anzi se siete voi stessi voci narranti o scrittori vi invito a iscrivervi perché nascono delle bellissime collaborazioni e si rimane sempre aggiornati sulle uscite dei canali indipendenti che quindi registrano audiolibri o registrano racconti o scrivono racconti in maniera indipendente quindi date un'occhiata a questo gruppo e per le collaborazioni vi aggiornerò man mano perché ovviamente a parte queste due che sono pronte e ci sarà anche una confarsata credo in uno dei primi video dell'anno di zelcor fatto con zelcor e la via della voce insomma ci saranno ci sarà un po di un po di carne sul fuoco come si suol dire altra novità che in realtà è già attiva da fine 2019 ma la proporrò un po di più nel 2020 è il fatto che io mi sia resa disponibile a prestare la voce ad affittare la voce a chiunque ne abbia bisogno quindi per certo dirlo con questa voce nasale e influenzata non è proprio il massimo me ne rendo conto ma se sentite gli altri audio sapete che la mia voce non è così come oggi e insomma sarò disponibile appunto a registrare audiolibri o contenuti di qualsiasi natura e potrete affittare la mia voce da alcuni siti che vi lascerò nei link già vi lascio quello di melofile.it perché sono già iscritta a questo canale a questo servizio e quindi sono già disponibile da qui ovviamente se avete richieste particolari iscrivetemi direttamente non ci sono problemi infatti l'anno prossimo farò alcune collaborazioni anche in questo senso e non vedo l'ora di finire tutto quanto per rendervi partecipe di questi bellissimi lavori che sto già registrando in realtà non oggi ma che sto già registrando. Essendo rimasta praticamente con pochissima voce chiudo direttamente questo audiolog con le famose risposte di cui parlavo. Le domande che mi sono state poste sono state tutte inerenti le mie 1500 identità su internet ossia il fatto stesso che il mio canale si chiami la musifabolista audiolibri e prima invece era sussurrano le stelle audiolibri che su speaker il mio profilo si è indicato come gatto verde acqua e poi in realtà pubblicizzato come la musifabolista che dal mio dai miei social sia di facebook che di internet ogni tanto spunti fuori un un account che non c'entra nulla con quello che faccio a livello artistico ma che c'entra con il morbo di cron che è una malattia autoimmune. Questo perché io mi sono sempre frammentata in 500 progetti differenti e ho provato a riunirmi in un unico account in un grosso cappello ed in effetti la musifabolista nasceva per questo motivo nasceva per essere contenitore di tutte le mie passioni di tutte le mie attitudini ma non mi riesce proprio di rimanere ferma in un unico account a un disturbo di identità artistica ragazzi e non c'è niente da fare un disturbo di personalità artistica per il quale la musifabolista è il canale che io dedico principalmente a tutto ciò che è voce ed eventualmente a illustrazioni però le illustrazioni fanno talmente parte di me i disegni stupidi gli scarabocchi fanno talmente parte di me e non sono servizi a livello professionale che in realtà stanno un po' dovunque nelle mie varie identità. Tutto era nato come gatto verde acqua in realtà nel 2009 quando avevo abbracciato uno stile di vita e alimentare differente e volevo metterlo online per condividere le mie esperienze e cercare qualcuno che avesse esperienze simili da condividere con me quindi in realtà forse 2008 addirittura nel 2008 2009 nasce tutto con il gatto verde acqua che è stato il mio account principale per un sacco di tempo e ha visto tutti i miei deliri è passato da tutte le parti da quando facevo l'operatrice olistica quando tenevo insieme a una ragazza un'associazione appunto di stampo olistico è passato attraverso il mio periodo in cui illustravo il periodo in cui facevo la paroliera scrivevo musica cantavo canzoni e poi alla fine è diventato il canale degli audiolibri ma tutto in maniera molto disorganizzata e frammentaria io sono estremamente disorganizzata quindi negli anni quando magari mi trovavo ad esempio nella necessità di dover separare determinati argomenti perché io ho una malattia autoimmune a tutti gli effetti ma non mi sembrava carino parlarne attraverso un canale che si dedicava in quel momento al disegno oppure alla musica e quindi ho creato il profilo di Alice nel paese del morbo di cron per parlare delle mie esperienze prettamente inerenti al morbo di cron e poi ho cercato di unire le cose di nuovo e ho fatto un casino allucinante quindi attualmente il gatto verde acqua che dà il nome al canale di spreaker dava il nome al canale di spreaker e non è modificabile quindi il mio canale purtroppo per quanto appaia graficamente come la musi favolista audio libri nell'indirizzo rimarrà come gatto verde acqua perché non mi è possibile modificarlo il gatto verde acqua quindi ha una sua identità perché quest'anno ricominciato un percorso di formazione in mindfulness e quindi rimarrà attaccato e allacciato a queste tematiche per l'anno 21 non adesso esiste ed esisterà in questo in questa direzione l'altro account è un account appunto dedicato alla malattia che ho con la quale convivo da oltre vent'anni e quindi magari non è piacevole parlarne in altri social e quindi cerco di limitare le uscite solo su quell'account mentre la musi favolista è attualmente e si spera definitivamente l'account dedicato alla voce quindi a tutto ciò che è voce narrante ma anche sarà magari musica piuttosto che audio di altro carattere audio di altro carattere sì l'ho detta giusta e in ultima battuta c'è un progetto narrativo chiamato schizofrening che è presente come canale sia su spreaker che su youtube credo di averlo oscurato su spreaker forse non del tutto su youtube no su youtube non l'ho oscurato che cosa sto dicendo l'ho reso l'ho aggiunto a una playlist del mio attuale canale della musi favolista quello è un progetto ancora in opera un progetto narrativo che sto ultimando a quattro mani con massimo maid ed era nato come progetto narrativo oddio polifunzionale potremmo dire così chi lo sa perché doveva essere un mix di immagini di suoni di narrazioni di scritti per raccontare di depressione e disturbi mentali non posso dire altro perché appunto il progetto è ancora in fase di scrittura e ho dovuto interrompere le uscite proprio perché sotto suggerimento della mia fantastica web designer della quale vi lascerò il sito qua sotto che curerà il sito del progetto quando sarà terminato abbiamo dovuto interromperci perché rischiavamo di non so come spiegarlo in altro modo se non rovinare l'opera finale dando troppi spoiler quindi ho dovuto a malincuore interrompere il mio lavoro perché lo amavo tantissimo e lo amo tantissimo e però riprenderà ecco questo era un piccolo escursio nelle mie identità attuali online penso e spero di non averne altre o meglio ce n'è sicuramente qualcun'altra legata a qualche altro progetto ricordo vagamente un account creato quando avevo cominciato a suonare l'oculele ma spero di averlo cancellato quindi insomma non so quanto io abbia risposto facendo chiarezza a queste domande che mi sono state poste però insomma così forse è un po più chiaro il motivo o la patologia che ho per la quale mi si vede spesso e volentieri con account differenti non lo faccio apposta sono proprio confusionaria in realtà mi piace l'idea di dedicare molta attenzione ad un progetto e incanalarlo in una in una via comunicativa quindi in un account in un blog in un sito in quello che sia e spesso e volentieri reputo che ci sia una distanza talmente ampia fra i mari fra i miei vari interessi che io non possa gestire tutto in un unico sito perché chi mi segue per gli audiolibri ma che gliene frega di che cosa ho ma che gliene frega del fatto che magari faccio illustrazioni o viceversa quindi tendo sempre a frammentare un po i lavori e i progetti per evitare di come dire confondere in realtà lo faccio ancora di più forse e di infastidire chi magari mi segue per quel motivo nello specifico quindi se non sono stata chiara o se vi ho creato ancora più confusione in testa vi chiedo infinitamente scusa e adesso vi saluto vado a fare un aerosol penso di tuffarmici nella macchinetta dell'aerosol e cercherò di registrare qualcosa magari domani magari nei prossimi giorni quando starò un po meglio e incrociamo le dita fate tutti il tifo per me perché io riesco a finire peter pan entro il primo gennaio un abbraccio a tutti quanti e ci sentiamo prestissimo ciao